Grazie, adesso subito la parola al professor Biagini. Grazie, grazie professor Morcellini. Buonasera a tutti voi. Ci sono qui in prima fila dei volti che per la mia generazione sono noti, ma credo che ormai siano anche un pezzo di storia, di come nel nostro paese alcune strutture, alcuni aspetti della nostra vita si sono formati. Quindi, questo lo dico per i più giovani, in anni più difficili forse sul piano economico, ma positivi perché c'era un processo di costruzione in realtà. Poi tutto questo si è disperso, io sono nato nel 1945, quindi tra poco me ne vado in pensione grazie alle varie leggi che ci sono state, però spesso mi domando, poi faccio anche lo storico di mestiere, avrei fatto fino a che non avevo questi incarichi di tipo amministrativo politico, e mi domando che fine ha fatto tutto questo, perché chi ricorda l'Italia del dopoguerra sa, sì, della grande miseria che c'era, ma anche della grande volontà di costruire. Professor Morcellini, sto, come dire, derogando un po' il discorso del saluto, perché è ovvio che io qui vi porto il saluto anche del magnifico rettore, della nostra comunità accademica, per esprimere in realtà un particolare applauso al Dipartimento, al Coris, al professor Morcellini, che si sono fatti carico, diciamo, e hanno voluto fortemente questa iniziativa, che rappresenta, secondo me, quello che abbiamo sempre detto che da giovani forse si praticava di più, che era il rapporto tra l'università e il mondo esterno. Si parlava meno di rapporto tra l'università e la società, ma si realizzava di più. Poi quando è diventato un fatto, come dire, quasi scontato, invece in realtà ogni organismo ha cominciato a camminare quasi dentro, come un settore chiuso, e credo che questo sia stato un danno per noi, è stato un danno per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, è stato un danno per la società nel suo più ampio spettro, perché l'unico modo per progredire è quello di mettere insieme le conoscenze, le professionalità, le critiche, le polemiche, tutto quello che volete, ma deve essere messo insieme. Se ognuno cammina per la sua strada e non guarda quello che succede intorno, è chiaro che non va da nessuna parte. E credo che questo sia un elemento, in fondo, di una certa decadenza, che noi già conosciamo da diversi anni e dalla quale non riusciamo a uscire, non è solo responsabilità nostra, ci sono tante altre responsabilità. Il professor Mercellini faceva un accenno, evitare il politico di turno. Beh, io non lo eviterei se fosse una persona per bene, preparata, o che si contorna di persone preparate, perché non si può pretendere, nessuno di noi può riassumere, come dire, tutta la scienza in un settore, però se ha l'abilità di scegliersi dei collaboratori che invece sono dei professionisti seri, allora ben venga la politica. Mario faceva accenno alle riforme universitarie, ma il problema è che sono state fatte da ministri e parlamenti del tutto inconsapevoli di che cosa fosse l'università. La trasformazione in azienda dell'università ha prodotto solo guasti, non abbiamo copiato i modelli anglosassoni nella parte peggiore, ma non nella parte migliore, e il risultato è quello che in parte conosciamo, e dal quale però in qualche modo io oserei dire che stiamo anche uscendo, perché gli Atenei che hanno voluto essere virtuosi riescono ad uscire da queste crisi. Se pensate che sei anni fa noi avevamo 60 milioni di buco, come si suol dire, oggi siamo a 9 milioni di attivo consolidato, quindi per chi conosce i bilanci sa che cosa significa. Quindi è possibile, non è affatto vero che non ci sono le soluzioni, basta volerle. Credo che questo sia un problema anche degli argomenti affrontati in questi seminari, che, ripeto, sono secondo me molto importanti, proprio perché avvengono in un luogo come l'università, che sarebbe il luogo deputato a discutere di questo, come di altri temi. Lo facciamo in altri settori con la cooperazione, lo facciamo con la politica internazionale, lo facciamo, come dire, per la chimica, per la fisica, quindi è chiaro che un'università, soprattutto come la nostra, cosiddetta generalista, qui uso un termine più televisivo che universitario, cosiddetta generalista, è chiaro che ha tanti di questi aspetti e questa discussione che è avvenuta e che continuerà, io mi auguro, con dei prossimi incontri, credo che sia un elemento estremamente utile di questo badato atto a questo Dipartimento, al Dipartimento Coris, di averlo affrontato e di averlo anche condotto per tutto il periodo e per tutti gli argomenti affrontati. Con il professor Morsellini spesso ci divide un po' l'opinione sulla stampa, un'altra volta abbiamo fatto una amichevole e garbata polemica, perché io sostengo che la stampa è uno dei tanti spaccati di un paese, di una società, quindi quando tutti diciamo che la stampa non funziona, diciamo a noi stessi che non funzioniamo tutti noi in realtà, non è solo, come dire, che il giornalista è cattivo e il soggetto preso, come dire, in esame da un articolo sia buono. La realtà è che se c'è un cattivo giornalismo è perché non abbiamo avuto delle buone scuole, delle buone università, quindi rischiamo di, come dire, di avvitarci in una situazione molto pericolosa. Io rimango fermamente convinto che l'unica possibilità che noi possiamo avere per il futuro, Maria, è quella di, da parte nostra, formare persone sempre più libere e questo è il vero grande problema che ha tutta la scuola oggi, non solo l'università, quello di formare persone autenticamente libere e dall'altro lato però dobbiamo anche impegnarci nella collaborazione laddove è possibile per realizzare dei progetti di ricerca, dei progetti di riforma che siano compatibili anche con la realtà in cui si vive. Ecco, non possiamo nemmeno immaginare un mondo delle fiabe, altrimenti anche in questo caso non andremmo da nessuna parte, quindi, lo dicevo prima con qualcuno, bisogna un po' adattarsi a quello che avviene e a come le cose si stanno evolvendo. Dall'altro lato però cercando di indirizzarle verso la parte migliore. Con questo mi taccio perché sono andato oltre forse quello che è un indirizzo di saluto da parte di un rappresentante diciamo della governanza della Sapienza però siccome poi questi temi come cittadini, come operatori culturali ci coinvolgono quindi mi sembra giusto ricordare che oltre a quello che dobbiamo fare noi poi occorre come dire un ampio consenso e un'ampia collaborazione. Quindi grazie per il lavoro che fate io poi fra un po' vi chiedo scusa ma in questo periodo poi di cambio di amministrazione c'è tutto un passaggio delle consegne c'è un grande lavoro da fare anche sul piano come dire tecnico amministrativo e quindi dovrò scappare però grazie per avermi invitato e buon lavoro. Grazie a te anche per i contenuti del saluto noi siamo sempre convinti che il saluto debba essere impegnato sui contenuti lo è stato sempre in queste occasioni quindi te ne siamo particolarmente grati.